Sindaco Brucchi, il giorno dopo la sentenza di primo grado sul Teramo, in città si respira un'aria pesante, rabbia, inquietudine, anche un po' di rassegnazione, preoccupazione. Continuando a leggere le carte, io non parlo da avvocato, faccio il sindaco, faccio un'altra professione, però guardando, leggendo le carte davvero, come dire, ci si sente un po' troppo danneggiati. Non si ha l'idea che sia stato utilizzato lo stesso peso e la stessa misura per tutte le situazioni e questo fa ancora più male, però noi non ci abbattiamo, non si abbatte il Presidente, io sono stato con lui sia ieri mattina che ieri pomeriggio, stiamo lavorando, anche il Comune sta facendo delle valutazioni per capire bene quali sono le cose da fare e se si possono fare, sempre ovviamente, come dire, in accordo con il Teramo Calcio, qualcosa che sia, diciamo, come dire, che rafforzi la situazione. Siamo davvero fianco a fianco e non ci arrendiamo, non ci arrendiamo. La battaglia è appena cominciata, c'è il secondo grado, noi siamo fiduciosi nel secondo grado. Ieri l'ho detto anche al Presidente Abodi, ieri ho parlato circa 40 minuti con il Presidente Abodi perché si era sparsa la voce che avrebbero messo nei calendari Ascoli e io ho detto che è una cosa che non è possibile, bisogna mettere la X o al limite mettere Teramo Ascoli entrambi, mi è stato assicurato che verrà messa la X. Ho rappresentato anche al Presidente, da Sindaco, queste perplessità e queste preoccupazioni, anche perché lo stesso ordinamento di giustizia sportiva prevede che poi, in alcuni casi, sia il Sindaco proprio la figura che deve prendere in mano la squadra e allora il Sindaco deve anche lavorare per tutelare la Teramo Calcio e la comunità teramana anche nella giustizia sportiva. Io ci credo ancora perché credo in Campitelli, perché conosco Campitelli, quindi noi non ci stiamo assolutamente pensando. In queste ore ci stiamo concentrando su quello che è il ricorso.